Visita del Vice Ministro Cancelleri ad Alcamo in un momento così delicato e anche insomma un po' un sospiro di sollievo per l'amministrazione avere una figura che rappresenta lo Stato proprio qui presente al Palazzo di Città. Assolutamente sì e ringrazio per questo il Vice Ministro Cancelleri che oggi con la sua presenza ci fa sentire appunto questa vicinanza del Governo. Peraltro Governo e Sindaci sono collegati proprio da un cordone umbilicale quindi avremo modo di confrontarci chiaramente anche sulla questione che tutti stiamo vivendo che è quella del coronavirus. Ma è un'occasione anche di confronto a 360 gradi di una serie di possibilità, opportunità, di progetti che riguardano il territorio di Alcamo ma anche quello provinciale. In questo periodo in cui diciamo si erano usciti fuori dal lockdown fino adesso con questa seconda ondata che era prevedibilissima si poteva fare di più da parte di tutti, dei cittadini, delle istituzioni per prepararsi meglio a questa seconda ondata? Si può sempre fare di più ma ovviamente si poteva fare anche molto di peggio e quella che è stata messa in campo ovviamente è stata un'azione sinergica che ha portato non solo lo Stato ma anche i territori quindi sindaci e governatori regionali a lavorare tutti insieme verso un'unica direzione. Purtroppo quell'antico vizio della politica italiana che a volte valorizza di più il campanile che non il bene comune, ad esempio nel trasporto pubblico locale purtroppo ha fatto accadere qualche frizione. Lo Stato ha dato 300 milioni di euro per i servizi aggiuntivi cioè per bus, dei servizi turistici che potevano essere affittati alle regioni per poter accompagnare i ragazzi a scuola e quindi andare a allenire quello che era il problema che si era venuto a creare, c'è il sovraffollamento di mezzi già utilizzati al momento che però non potevano essere più riempiti come prima e dei 300 milioni soltanto alcune regioni hanno attinto questi denari e hanno speso soltanto 120 milioni al momento. E poi leggere che c'è qualche governatore che invece chiude le scuole perché ha paura del trasporto pubblico quando non ha speso neanche un euro di quei soldi che lo Stato gli aveva dato diventa praticamente paradossale. Nella scuola c'è una percentuale bassa di contagi ma ci sono stati pochissimi casi, quasi nessuno, nei cinema, nei teatri, nei contenitori culturali. Allora perché li chiudiamo e poi teniamo i mercatini settimanali aperti? Questa è una scelta, una decisione che già il Presidente Conto ha avuto modo di spiegare a tutto il Paese. Chiaramente l'idea è quella di evitare che ci siano spostamenti soprattutto con riferimento a attività in cui c'è il fondato rischio di abbassare l'attenzione. Quindi tutto ciò che riguarda la socialità tra cui cinema, bar, ristoranti e teatri. Io mi auguro chiaramente che il mondo della cultura possa rifiorire non appena sarà possibile. Tutti noi daremo una mano anche semplicemente partecipando agli spettacoli. Poi è chiaro, ci sono tutta un'altra serie di attività tra cui i mercati settimanali, rionali e quant'altro che in questo momento rimangono aperte. Ma attenzione, rimangono aperte con la massima attenzione che stiamo mettendo in campo ognuno poi per le proprie competenze, quindi comune, forse dell'ordine. Trasporti, una battuta, l'ultima onorevole perché qualche tempo fa un'iniziativa che io ho definito un po' propagandistica da parte dell'assessore Falcone in merito alla via Milo, il collegamento ferroviario da Alcamo a Trapani. Ma è possibile che ci è voluto più di un anno per il rilascio della certificazione via per poter finalmente mandare in appalto quest'opera? È stato possibile perché la commissione via, quello che dimentica l'assessore Falcone di raccontare, è che fino ad agosto era la commissione che era stata composta dal loro ministro Prestigiacomo e che praticamente da parecchi mesi aveva tirato il rimbarca. Solo ad agosto siamo riusciti con il ministro Costa a rinnovare finalmente la commissione via che si è messa al lavoro, adeguatamente, chiaramente pungolata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha questo cordone umbilicale che lo collega al ministero dell'ambiente. Siamo riusciti finalmente a portare a casa questo risultato e adesso si devono effettuare lavori. Sono 144 milioni di euro di investimenti, sono cose molto importanti che daranno a questo territorio non solo di nuovo la linea ma anche l'elettrificazione.